Dalle bellezze del territorio che abbiamo scoperto con il Presidente del BIM Tronto nel precedente blocco, adesso passiamo alle bellezze ritratte. Di questo parleremo con Chiara Pesci, che è una fotografa, possiamo dire così, oltre che una studentessa, cioè in primis studentessa, ha un passo dalla laurea e poi invece fotografa. Sì, proprio così, studio all'Università di Teramo, Management and Business Communication, e sono appassionata di fotografia da sempre e diciamo che è praticamente quello che faccio quasi tutti i giorni. Come nasce la passione per la fotografia? La prima macchinetta fotografica qual è stata? Ovviamente quella del papà che ho rubato, come capita spesso in famiglia, e quindi ho ereditato questa passione da papà e poi piano piano si è evoluta sempre di più e quindi adesso diciamo che ho tutta la mia attrezzatura e papà prende in prestito da me quando serve. Ecco, lei è giovanissima, se la ricorda le reflex con la pellicola oppure già nell'era digitale, hai iniziato già con le schede per fotografare? Ho iniziato con la fotografia digitale, però ho avuto modo di provare quella analogica, ma sicuramente non è quella con la quale mi trovo più a mio agio. Però c'era più poesia una volta, quando dovevi cambiare il rullino, dovevi… no, non è d'accordo? Sì, sì, credo che il fascino vero sia quello della camera oscura, dello sviluppo. Dello sviluppo? Sì. Dei sa sviluppare le fotografie? Poco, però l'ho fatto, sì. Preferisci il colore o il bianco e il nero? Io sono per un mondo a colori in generale, però poi ovviamente a seconda della foto, del messaggio che si vuole trasmettere, si sceglie il linguaggio, quindi di conseguenza anche il colore, il bianco e il nero. Quindi non è d'accordo con chi afferma che la fotografia artistica solitamente è quella in bianco e nero? È un'affermazione assoluta e come tutte le affermazioni assolute credo che… Che rappresentano i loro limiti. Dei limiti, sì. Perché il colore poi è il colore. Sì. Lei è una fotografa di moda, che significa oggi essere una fotografa di moda? Perché è cambiata, una volta la moda viveva di fotografie, oggi invece un po' il mondo della moda è cambiato, sono cambiati anche i mezzi di comunicazione e quindi la fotografia ha ancora il suo valore? Il mondo della moda sta subendo un grande terremoto, un grande marasma come in realtà anche la società con il Covid e quindi c'è un'accelerazione molto forte di mutamenti, però sicuramente la fotografia segue questo tipo di cambiamento e si adatta e infatti durante il lockdown ci sono stati anche diversi utilizzi della fotografia e diverse interpretazioni della fotografia di moda e si è arrivati anche a realizzare delle foto tramite cellulare, tramite webcam o addirittura queste foto sono state sostituite da delle creazioni digitali 3D. Quindi diciamo che il mondo della fotografia ha sempre un suo senso, una sua etica, una sua grammatica, però sta cambiando sicuramente molto. Durante il lockdown poi sono andate di moda, tra virgolette possiamo dire, così ne sono scaturiti anche dei libri, delle foto fatte dall'alto dei centri città deserti che hanno dato a questi luoghi conosciuti, importanti, immaginiamo noi il centro di Roma, il centro di Milano, sempre pieni di gente, visti senza nessuno hanno dato un aspetto particolare. Lei ci ha pensato mai a fare una cosa del genere? Sì, sono sicuramente delle immagini molto forti, delle immagini che ricorderemo e conserveremo Resteranno nella storia? Sì esatto, però diciamo quello che ho vissuto io è stato un po' diverso perché io vivo in campagna e quindi quello che ho potuto vedere, che ho potuto sentire più vicino a me è stata la potenza della natura, quindi non tanto l'assenza di freneticità quanto la piccolezza dell'uomo se vogliamo e quindi vedevo che questa natura continuava in perterrita come se nulla stesse accadendo ma noi in realtà stavamo vivendo una pandemia mondiale e quindi ho realizzato delle foto, una piccola serie che però è rimasta non pubblicata che racconta un po' questo, quindi la natura. Perché la natura poi ha avuto il sopravvento in un momento come quello dove non c'è la frenesia della vita quotidiana, dove non ci sono i ritmi della vita quotidiana, allora si riscoprono magari le bellezze della natura, i suoni, i rumori, soprattutto della campagna come diceva lei. Sì, è vero, è stata una bella esperienza diciamo in quel caos, è stata comunque un'esperienza nuova, sicuramente totalizzante. Lei ha vissuto delle esperienze all'estero pure? Sì. Dove? Allora sono stata a vivere a Londra, in Croazia e in Spagna. a Londra sono stata lì per lavoro, quindi sono stata a lavorare in una grande ditta. Questi scatti sono stati realizzati dove? Questi qui a Madrid, questi che sono personalizzati. Allora, parleremo dopo. Partiamo da Londra. In ordine temporale, sì, è la mia prima esperienza all'estero. Sono stata a lavorare in una grande casa di moda, di pelletteria, che si chiama Mulberry, e lì lavoravo in uno studio di ritoccatori, quindi realizzavamo tutte le foto per l'e-commerce e rendevamo queste borse perfette e lì abbiamo anche aiutato nell'organizzazione della Fashion Week della casa di moda. Ecco, cosa significa rendere la borsa perfetta? Mi tolga questa curiosità. La borsa che viene presentata non è già perfetta di per sé? La perfezione in assoluto non esiste. Non è di questo mondo, è poco ma sicuro. Però, ecco, il prodotto quando viene presentato è un prodotto perfetto? Nelle fatture? Forse la foto scattata che ha una luce particolare che non è al massimo, si parla di questo? In realtà la borsa è di per sé un prodotto di altissima qualità, essendo una fascia alta, una gamma alta di prodotti. Però comunque quando viene realizzata la foto si vedono tutti i dettagli della borsa, come ad esempio la venatura della pelle che può essere un po' più larga, un po' più stretta, la cucitura, il doppio punto finale per chiudere la cucitura, o semplicemente il metallo quando viene fotografato spesso non è lucido come lo vediamo nella realtà, ma viene reso di un colore più simile a quello che vede l'occhio umano, però che nella fotografia non è percepito. Che poi diciamo sono quei dettagli, questi che lei ha giustamente elencato, che fanno la differenza e fanno riconoscere molte volte quella che è una fake da una borsa originale. Eh sì, esatto. Le cuciture soprattutto. Sì, sì, sono proprio dei dettagli piccolissimi che però poi nel complesso fanno la differenza su prodotti di fascia così alta. E quindi lei ritoccava i particolari, cioè metteva in evidenza quelli che erano e come li ritoccava con una nota di colore? C'era uno studio creativo molto grande che era il direttore creativo del nostro studio e questo direttore creativo decideva tutte le linee guida che dovevano essere eseguite per tutte le foto e dovevano essere identiche e coerenti sempre. Quindi la difficoltà è poi nel rendere ripetitivi tutti questi dettagli. Lei ha portato delle riviste. Ce n'è una foto qui di quelle che ha scattato? A Londra? Ritoccate? No, no, quelle erano solo per internet. Erano solo per l'azienda? Solo per l'azienda. C'era un uso esclusivo, le aziende sono molto rigide in questo senso, quindi ci sono dei contratti di esclusività che vengono firmati e dai quali non si può prescindere. La pagavano bene? Sì. Ah, quindi vede, insomma è stata un'esperienza... Una bella esperienza. Una bella esperienza. Sì, sì, sì. Poi penso vivere a Londra, insomma... È stato bello. È stato bello. Lavoravi in centro? Sì, era una delle zone più prestigiose, vicino alle ambasciate. Quindi? Sì. Bellissimo. Bellissimo. Dopo Londra, dopo l'esperienza inglese, ha fatto la Brexit, è uscita ed è andata dove? Sono tornata a Teramo, dove ho appunto studiato e poi tramite l'università sono andata a Madrid per un periodo a vivere e lì ho approfittato per contattare i designer locali, perché comunque sono molto affascinata dalla creatività e da questo fervore creativo che c'è tra i giovani. E quindi cerco sempre di collaborare con loro, di dar loro risalto e insieme abbiamo realizzato degli editoriali di moda con i loro capi, che spesso sono capi sostenibili. E sono le foto che abbiamo visto prima. Sì. Se dalla regia le possiamo rimandare in onda, così magari poi le spieghiamo, vediamo che tipo di foto, come si scatta tecnicamente, no? Una foto di moda. Volentieri. La faccio completare. Ecco, questa? Questa per esempio in realtà era un'attrice e quindi non c'è nulla da dire per quanto riguarda i vestiti, è più una cosa emozionale, emotiva. E questa è una foto scattata dall'alto verso il basso? Sì, sì, qui c'è il cielo nuvoloso, quindi l'immagine è una luce morbida, anche questa è una luce morbida naturale. Queste sono ovviamente le foto, sono tutte posate. Sì, tutte posate. Questa? Anche questa è una foto, diciamo un ritratto, però non è una collaborazione di costilisti. Sì. Ecco, io le foto di prima volevo vedere dove c'erano... Questa è in Croazia. Questa è in Croazia. Un'altra esperienza. Sì, della quale parleremo. Tra poco questa è Madrid. Sì, questo è un modello a Madrid, qui in realtà erano tutti i capi vintage, perché comunque è un trend che va molto adesso il vintage e quindi anche questo va raccontato. Cioè la moda non è solo qualcosa che è lontana da noi, ma è qualcosa che tutti possiamo realizzare in qualche modo con un gusto estetico e quindi sì, l'abbiamo realizzata con i capi artisti con i quali hai lavorato. Questo qui è uno stilista, un talento per Fashion Vogue, si chiama Salvatore Vignola, con una collaborazione di Ilarius, che è questa ditta di cappelli che fa questi capolavori incredibili ed è altissima moda anche questa, c'è dei prezzi e dei budget incredibili. C'è ha haute couture. Sì, è haute couture. Vediamo altre foto, se possiamo andare avanti. E questa è stata realizzata durante la Fashion Week a Milano, anche questa, sempre la stessa collezione. Anche questa a Milano pure? Sì, è la Fashion Week, lì praticamente veniva presentata la collezione nuova che poi appunto è stata considerata una delle migliori da Fashion Vogue. Questo è un altro capo di un altro stilista emergente che si chiama Peter e appunto ha giocato molto sul fatto del vintage ricreando poi dei capi innovativi unendo appunto questa giacca a questo corsetto particolare. La particolarità di questa foto è che è dal basso verso l'alto e serve per riprendere lo sfondo del piccolo. Sul caso volevamo dare importanza al soggetto perché l'editoriale si chiama Multiple Personality Disorder e praticamente parla appunto di questa figura maschile che attraversa diversi stati emotivi. In quel caso appunto bisognava dare risalto alla crudeltà del gesto che stava facendo. Diciamo la posa è sempre a servizio del messaggio. Questa fa parte sempre dello stesso editoriale e lo stile è molto diverso. Questa pure a Milano? Sì, sempre la Fashion Week, tra l'altro ieri stavo guardando il sito di Levis e ho scoperto che quella modella sta tra le foto dell'e-commerce di Levis, anche il mondo dei modelli è piccolo. Beh sì, poi bene o male girano, io sono capitato a Milano qualche volta durante la Fashion Week che si vedono questi modelli che girano con le cartelle alla ricerca di case e di agenzie che li facciano sfilare ed è veramente una cosa incredibile vedere tutte queste persone che continuano a girare perché poi funziona così, si cerca in quella settimana di concentrare e di fare il lavoro e di partecipare alla sfilata di una maison importante. Sì, sono degli orari incredibili, delle timeline strettissime, questi modelli scappano praticamente da una parte all'altra con taxi. Ma anche per voi sono le timeline incredibili perché la successione delle sfilate che durano 20 minuti al massimo, un quarto d'ora, 20 minuti, poi bisogna cambiare location e andare magari, che ne so, sfila Gucci a mezzogiorno, poi a Luna sfila Dolce e Gabbana da un'altra parte. Sì, sì, infatti per questo organizzano anche dei pulmini per trasferirsi in modo rapido. È proprio un mondo particolare, quella settimana... E le dà soddisfazione fare... Sì, a me piace moltissimo realizzare foto perché sono tratta dagli esseri umani, dai volti, dalle emozioni. Ci racconta qualche aneddoto di qualcosa che le è capitato durante una fashion week o una situazione particolare? Una volta ero a Londra e avevo visto praticamente un ragazzo un po' particolare e quindi siccome sono una curiosa, mi sono avvicinata e gli ho chiesto se potevo fargli una foto. Praticamente poi ho scoperto che era un modello e quindi abbiamo organizzato un vero e proprio servizio fotografico nella settimana successiva e la particolarità di questo ragazzo era che aveva gli occhi tatuati. Quindi praticamente la parte bianca dell'occhio... E quando lo guardi si vede pochissimo l'occhio e quindi abbiamo realizzato queste foto... Siamo arrivati a questo, cioè uno si tatua gli occhi... Che tra l'altro non so nemmeno se è reversibile come processo. Immagino di no, immagino questo ragazzo, gli auguro di vivere 150 anni, ma lo immagino quando avrà 60 anni, 70 anni... E' molto particolare e poi tra l'altro qualche mese fa l'ho visto in tv alle Iene. Perché aveva questi... Perché aveva questi body modification. Ed è nata per caso questa collaborazione. Lei ha portato delle riviste qui, ci sono delle foto particolari che ci vuole far vedere? Questa è una copertina che ho realizzato per Piction. Eccola qui. E c'è anche il retro? Sì. E questo è il retro? Sì, e dentro c'è l'intero servizio fotografico. Aspetti che la dobbiamo mettere a fuoco però, perché se la sposta... Oddio, scusate. Se la sposta in continuazione poi non riusciamo a rendere onore alla... Eccola qui. Alla bellezza della foto. Ecco, questa è una modella... E questo... E' sempre la stessa. Sì, perché comunque faceva parte dello stesso editoriale, All'interno ci sono le foto, le immagini dell'intero servizio. E la cosa molto particolare che mi ha spinto a collaborare insomma con questi stilisti è stato il motivo della collezione, perché è stata realizzata praticamente in modo che i tessuti non vengano sprecati in nessun modo e questi abiti possono essere indossati in molti modi diversi semplicemente cambiando magari la cinta o un accessorio. Ci sono modelli che sono proprio preposti alla passerella e modelli che invece sono specializzati nel campo della fotografia, sì? Sì, sì, sono cose diverse. Sono cose completamente diverse. Diciamo che chi esegue, cioè chi è un modello da passerella può fare anche le foto, ma non sempre viceversa. Cioè chi fa le foto non sempre può sfilare in passerella. Perché comunque le passerelle hanno delle misure standard, delle taglie standard, mentre nelle foto l'importante è essere proporzionati ed avere un bel viso, anche se è comunque un trend che sta cambiando. Il mondo della moda, che si dica, che si continua a dire che è un mondo complesso, non sempre è così bello, non sempre è così scintillante, è vero, è proprio così? Ci sono dei risvolti opachi, scuri, che... Sicuramente come il cinema è un po' una fabbrica di sogni. Quindi quello che vediamo è il risultato di tantissimi sforzi, di tantissima cura, di tantissimi dettagli e di tantissima precisione. Quindi sicuramente la cura, ci sono tutti i dettagli che portano ad un mondo un po' pesante da vivere. Però comunque è giusto che sia così perché per fabbricare dei sogni bisogna lavorare sodo, come nella vita reale. Ecco, una volta quando ero giovane io, per esempio, i maschietti volevano fare i calciatori o i giornalisti, le ragazze volevano fare le hostess, perché allora le hostess andavano di moda. Oggi invece si vuole fare i modelli. Quindi, pensando che uno indossa un vestito, si mette là... ma quanto lavoro c'è? Tantissimo! Bisogna lavorare, questo dappertutto, insomma. Però possiamo dire che gli ideali di bellezza si stanno trasformando, per fortuna, sono molto più fluidi e quindi diciamo che tutti potenzialmente siamo bellissimi e io sono sempre d'accordo con questo. Infatti spesso realizzo foto a persone che sono normali, magari sono dei miei amici o persone che semplicemente mi piacciono. E quindi sono molto felice che si stia valorizzando anche il body positive, la normalizzazione dei corpi, anche in passerella. Lei fra due mesi si laurea? Sì. Quindi congratulazioni, la tesi è pronta? No. No, non è pronta, stiamo lavorando. È in ritardo? Un po'. Quando la deve consegnare? Tra un mese. Tra un mese, perché si consegna un mese prima, quindi tra un mese deve consegnarla. Poi che farà? Credo che inizierà a lavorare nel mondo della comunicazione e del marketing. E fare fotografia e comunicazione e soprattutto marketing. Sì. Bene, grazie. A Chiara Pesci complimenti. Grazie. Per le foto, per il suo lavoro. Grazie. In bocca al lupo per la tesi, per la laurea. Io e il lupo. La media qual è? Alta, alta. Alta? Quindi puntiamo alla lode? Sì. Bene, speriamo. Speriamo. In bocca al lupo e poi la ritroveremo magari con altre foto e altre situazioni. Sicuramente. Grazie a Chiara Pesci. Linea alla regia. Grazie. Grazie. Grazie.